Ai tempi dell'ultima gestione di Zeman, 5-6-7 anni fa, insomma giù al San Paolo, tutti quanti davano finito a Totti, io gli disse guarda secondo me tu puoi giocare altri 5-6 anni specialmente con quest'anno che hai fatto con Zeman, che ti mette su un somma eccetera eccetera, dice ah speriamo così, ti giochi una cena, c'era pure De Santis, si come no, caspita, la cena lui l'ha persa perché ha giocato 5-6 anni perché lui non credeva, però non l'ha mai pagata, insomma De Santis è buon testimone, salutiamo Morgan De Santis